Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Che bello avere in diretta con noi Ermal Meta e Fabrizio Moro, ben ritrovati Ciao ragazzi, che bello Allora diciamolo subito, sono usciti questi due album meravigliosi Per Ermal tutti inediti, per Fabrizio invece una rivisitazione dei tuoi più grandi successi È una rivisitazione di tutti i brani che hanno delineato il mio percorso artistico Dalla data di pubblicazione di Pensa, 2007 fino ad oggi E ci sono anche brani che ho scritto per altri, come sono solo parole per Noemi Interpretata da me, un'altra vita per Elodie Con l'aggiunta di due inediti Non mi ha effetto niente, il brano che abbiamo presentato a Sanremo insieme ad Ermal è un altro inedito Allora diciamo che, no Ermal, volevi dire qualcosa del tuo nuovo album? Beh, sono dodici pezzi inediti Tutti molto belli secondo me Ma che cosa posso dire? Un album va ascoltato Un album va ascoltato Ascoltato e apprezzato Allora ci siamo visti diverse volte durante l'estate, insomma con Radio Brunestate Attraverso questi live, comunque frequentandovi è nata l'idea di collaborare per questo Sanremo Se non ho capito male la scorsa estate È un pezzo bellissimo, un pezzo che ha emozionato tanto Grazie E che farete in duetto proprio con Simone Cristicchi che nel 2007 vinse qui a Sanremo Come sono andate le prove e come sarà questo duetto? Beh, in realtà non possiamo anticipare nulla Perché Ma Radio Brunestate No, no, per questo Perché poi un conto è anticipare le cose e raccontare quello che poi si vedrà Crea un effetto diverso rispetto al non dire nulla Capito? Però possiamo dire che noi ci siamo emozionati tantissimo Poi Simone quando fa certe cose è veramente il numero uno E siamo molto felici Abbiamo finito le prove adesso ma non abbiamo provato nulla Nulla È venuto oggi Simone qui a Sanremo Ha fatto tutto lui Non abbiamo avuto tempo di vederci E abbiamo provato in un'ora abbiamo montato questo duetto E d'altronde quando Questo terzetto Questo terzetto, sì Ma lo conoscevate già prima Avevate già collaborato con lui Com'è nata l'idea di chiamarlo proprio per questo duetto? Noi lo conosciamo da molti anni L'ho conosciuto nel 2000 Tra il 2005 e il 2006 Perché abbiamo fatto Sanremo Giovani insieme Io ero in una band all'epoca Gli Ameba 4 suonavo la chitarra Non cantavo Però abbiamo fatto Sanremo insieme Quindi l'ho conosciuto in quel periodo E mi piacque moltissimo Poi Fabrizio l'ho conosciuto nel 2007 L'anno dopo Dove anche lui poi ha vinto Vero Insomma ci siamo frequentati Così da lontano artisticamente Perché comunque ci seguiamo eccetera L'idea è stata abbastanza naturale in realtà Perché proprio in virtù di quello che faremo stasera Che non possiamo svelarvi In virtù di quello che faremo stasera Non poteva che essere Simone Cresticchi Io comunque in questa canzone ho trovato L'intensità di Ermal dello scorso anno E anche di Fabrizio Compensa nel 2007 Quel trasporto incredibile Che emoziona da casa Che fa scatenare tutti questi social Che tifano per voi Un affetto incredibile Ho fatto questo giro con tanti complimenti Perché devo arrivare alla domanda Insomma Della grande Del finale Della finale Della serata finale Che cosa pensate? Va già bene aver espresso così il vostro lavoro I complimenti in merito alla canzone Gli album che appunto sono usciti Sperate di essere nel blu Dipinto di blu Per la classifica? La canzone sta andando benissimo Infatti Sta andando tutto molto molto bene Quindi L'affetto della gente è la cosa che conta di più Perché poi I riflettori si spengono Dopo una settimana sul festival Quello che non si spegne È l'affetto che le persone ti regalano Che ti danno La cosa che conta di più è quella Questo affetto però Porta anche a chiedervi Di andare in tour insieme Ma so che avete un tour distinto Uno dall'altro Sì esatto Esatto Dei guest Però ci siamo Autoinvitati Io mi sono autoinvitato Al concerto di Ermal Al forum di Astago Io l'ho minacciato Quando è il 28 aprile Giusto Io mi ricordo bene Che il tuo è il 16 giugno Tu ancora fai fatica A ricordarti che il mio 28 di aprile E lui si è autoinvitato E che è più vecchio No più grande scusa E quindi Diversamente giovane scusa Siamo contemporanei Ho detto solo che è più grande di me Non è che volevo malignare adesso Mandagli un messaggio il giorno prima Allora guarda ti aspetto Dico Gli scrivo Non no Guarda che Guarda che domani Però parai appunto Insomma sarete ospiti l'uno dell'altro Questa canzone Oppure anche qualcos'altro Insieme Questo adesso Non possiamo Non possiamo Scusa Che gusto c'è Nell'andare a vedere Poi in concerto Se sei tutto prima Ma quando tu vai a vedere un film Che c'è uno che ti suggerisce La scena che stai per vedere Alle volte Se esci dal cinema Che arrivano quelli Dello spettacolo prima Succede E tu in genere Tu in genere Quelli li odi Non è che dici Ah che bello Mi ha appena raccontato il film Che sto entrando a vedere Però insomma Qui a Radio Bruno Vogliamo sapere di tutto Di più Se avete voglia di scoop È quello Allora davvero Noi vi ringraziamo Di essere stati con noi Grazie a voi Grazie Ciao Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renault Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca